Buonasera da Fabio Panzeri, benvenuti a una nuova puntata di Primo Piano. Ben trovati anche da Casia Sala. L'ospite che incontriamo oggi è Paolo Oberti, 56 anni, imprenditore dell'autotrasporto, ma tante altre cose di cui parleremo nel corso di questa chiacchierata. Parto subito con una domanda così, senza scaletta. La dote principale di un imprenditore quale deve essere? Ce ne sono tante, ma oggi la pazienza è l'incoscienza. Oggi chi fa l'imprenditore in Italia è un eroe. Chi apre un'azienda nuova è un pazzo. È il solito cagliere d'oleans rispetto alla burocrazia, alle tasse. Tutto quanto lei ha detto è assolutamente vero, però di fondo ogni popolo, diceva la mia nonna, il governo che si merita vale per il governo nazionale, per il governo locale, per la regione. E che noi popolo, per colpa secondo me di politici di prima, poco lungimiranti, oggi scontiamo questa cosa dove la politica non conta più. Niente. Niente. Proprio zero. In politica oggi è difficile che una persona, tra virgolette, non dico impossibile, ripeto anche qui, non voglio generalizzare, ci sono anche dei bravi politici, politici onesti, persone oneste che ci vanno, ma che poi vengono spulse dal sistema. Ma un imprenditore come giudica, lei come giudica per esempio il reddito di cittadinanza? Devo rispondere. Facciamo una domanda successiva? C'è una domanda di riserva, c'è il reddito di cittadinanza secondo me, ecco, mi riallaccio al discorso che avevo inserito prima. Oggi le nostre generazioni, quelle più giovani, peggio ancora per colpa nostra, mia, io sono padre di quattro figli, la cultura del lavoro, i valori, li hanno persi, li hanno persi. Oggi la gente è a lavorare, ma il problema è che alle 5.10 deve uscire, alle 5.30 c'è gli amici che deve correre, alle 8.30 deve far la pericena, alle 5.00 quando è uscito. Il problema è che c'è in ufficio, non è... Romani. Questo è tutto conseguenza, tutto un effetto di un'assenza di riferimenti politici o di cos'altro? Io penso che il riferimento principale che è venuto a mancare siano la famiglia, il rispetto e i valori che vanno oltre la politica, oltre la politica. Non sono senza peccato neanch'io, però cerco di combattere. La politica è sempre responsabile, ma la classe imprenditoriale ha delle responsabilità rispetto anche a quello che è la situazione attuale? Diciamo, la ritengo meno responsabile o non responsabile. Allora, parliamoci chiaro, è un assioma, ma uno deve decidere cosa fare. Fai l'imprenditore, non devi fare politica. Perché, siccome, se devi sviluppare la tua impresa, la tua mission è quella di sviluppare l'impresa. Quindi, non puoi schierarti a destra o a destra. E quando un grosso imprenditore, faccio un esempio, Berlusconi nel 94 si schierò, cosa scatenò? Ma non è successo in Italia, ho fatto l'esempio di Berlusconi, ma... Quindi non dovrebbe più occuparsi delle sue aziende, lei dice. Non dovrebbe occuparsi, addirittura se hai un passato del genere non dovrebbe nemmeno entrare in politica. Eppure lei si candidò a Buona Forza Italia a fianco di Berlusconi. Ne sono orgoglioso, ho fatto un'esperienza di vita importantissima. Io avevo però 30 anni, non ero nonno, oggi ne ho 55, 56, tra un mese. D'accordo, faccio anch'io come le signorine. Avevo la grinta, la voglia di cambiare il paese. La politica a casa mia è sempre stata di famiglia. Mio padre è morto che avevo 10 anni ed era consigliere regionale. Quindi era sindaco quando io ero appena nato, la maestra mi ricordo che un giorno andai a casa a dire papà, in seconda elementare, che lavoro fai? Mio padre mi guardò e mi dice... In dialetto mi diceva, fanno lavorare, che lavori? Del lunedì al sabato come nasi? Perciò fare il scemo la domenica messa. Ecco, il problema è che oggi questa cosa si è acuita. Oggi uno che fa l'imprenditore in un comune non scende, tra virgolette, in campo. Non può perché ci sono troppe... Poi più il posto è piccolo, più il comune è piccolo, più c'è l'invidia. E la gente mormora. La gente mormora, c'è l'invidia. Quindi uno, se vuole fare l'imprenditore oggi, deve stare defilato e devi vivere, portare avanti la tua azienda, nonostante la politica. E qual è il giusto rapporto che deve esserci tra la politica e l'impresa? Perché è innegabile che siano due mondi che vengono a contatto. Noi stiamo parlando in questo momento di un male che dura da decenni. La mia nonna mi diceva il peggio, non c'è mai fine. Continuiamo tutti a parlare della burocrazia, di questo, delle cause, eccetera, eccetera. Quindi siamo come noi tre oggi, a fronte di questi problemi, siamo un consulto di medici. Lei dice, come mai è l'ammalato? Cos'ha l'ammalato? Allora lei mi chiede, ma cosa dobbiamo fare? Allora mia nonna diceva, guarda, che intanto il dottore alpensa, ammalà il muro. Il medico bravo mi diceva, non è quello che pensa, è quello che risolve il problema. Io purtroppo, devo ammettere disarmante, in questo momento mi sento un dottore che pensa. Ecco, ma lei si sente tradito dalla rivoluzione, per tanti mancata, rivoluzione liberale, del centrodestra, degli inizi di Berlusconi? No, sono deluso sì, amareggiato sì, tradito. L'unico tradimento che non potrei sopportare è quello di mia moglie, ma non sono geloso, ho sempre detto che sparo. Sul resto, gli altri tradimenti, ecco, ripeto, amarezza, delusione. Per cosa in particolare? Per come scivola il paese, per quello che non si è fatto. A Berlusconi, non devo niente perché ho fatto del mio meglio, mi sono impegnato, ho messo la mia faccia, e quando fui candidato, ricordo che nel 1994, il candidato a Chiavenna e a Morbegno contro Di Mera su Cetti, Presidente della Camera di Commercio, Assessore in Provincia, e di qua c'era un certo Giulio Tremonti, quindi io dovevo essere candidato di Quina, non hanno trovato nessuno praticamente, perché avevano candidato un signore di Foggia che aveva fatto il comandante di Vigilfoco a Sondrio e ci fu una rivolta della Lega, di tutti. E alla fine chiesero a me, io feci il ragionamento, mio padre è morto facendo politica, io ero consigliere comunale a Tirano e me l'hanno chiesto per la stessa ragione, come faccio a rifiutare? E la gente dice, ti bruci, ti bruci. Ma si è bruciato? Io non dovevo bruciarmi, io ho detto, io voglio cambiare, il sistema, mani pulite, il sistema che c'è non va, proviamo un sistema nuovo, io mi metto in gioco. Ha qualcosa da rimproverare a Berlusconi? Eh sì, cioè... E allora iniziamo, facciamo un po' l'elenco. Ma no, chi è senza peccato scagli la prima pietra, anche lui le sue... Anche lui ha, come tutti gli uomini, i pregi e i difetti. Innegabile che ha dimostrato di essere un grande imprenditore, di aver creato ricchezza, anche da un punto di vista aziendale, la gente ha sempre detto, io sono uno che parla chiaro, Berlusconi è stato accusato, che era amico di Craxi, della DC, di questo e di quello. Io dico, quando uno è un grande imprenditore, è un grande imprenditore, che Berlusconi sia stato un grande imprenditore, sfido chiunque, vengano qui a dirmelo, e ne parliamo, e ne parliamo. Certo, qualcuno è stato più furbo, perché chi ha impoverito questa nazione in alcuni aspetti di trasporto, poi se approfondiremo vi dirò, della regione Piemonte, che hanno anche una squadra di calcio, che mi pare che, se non mi ricordo... Che ha due colori. Che ha due colori, il bianco e il nero. Non l'ascoli, però, vabbè. È una famiglia che si è sempre schierata un po' di qua, un po' di là. Hanno sempre socializzato le perdite e privatizzato gli utili. La politica, forse, a qualsiasi imprenditore che si cimenti, da Berlusconi in giù, si rivela più complessa di forse quanto lo stesso imprenditore immagina. Più di un imprenditore ha mancato magari la prova, ecco. Sicuramente, ma io lo so perfettamente, lo sapevo prima, perché respiravo la politica quando avevo le breghe corte. Quando avevo sette anni, sentivo papà, la mamma, cosa dicevano, quando è stato, tra virgolette, fatta la porcheria, Valsecchi, Taravini, parliamo di persone scomparse, di questo, di quello. Ero lì, ero piccolo, sentivo, quindi... però non sono logiche, diciamo, traslabili. Ecco, se tu sei un buon imprenditore, devi avere delle doti, devi esercitarti per anni per diventare un buon politico. Dopo la parentesi, molto formativa e interessante da quello che lei dice... Però guardi che è tutto prescritto, perché è del 94, quindi anche con la prestazione ventennale... Ecco, voglio chiarire un'altra cosa che ho veramente qua. La gente in giro mi guarda come uno che ha il reddito di cittadinanza, quindi indirettamente ho risposto alla domanda di prima, perché ha quella pensunta che è il vitalizio. Io non percepisco niente. Non percepisco niente. È vero che sono andato là, giovane. Percepirò nel 2027 qualcosa, che adesso ho sentito anche che hanno tagliato cose, ma non mi interessa niente. E quello lì è un... dei vitalizi è un falso problema. È ora di smetterla di con queste cose. Innanzitutto io, con i contributi che ho pagato e con il mio lavoro di quei due anni, se l'avessi messo per 35 anni in un fondo pensione privato, probabilmente nel 2027 avrei preso il doppio o il triplo o il quadro. Primo. Secondo, lo scandalo è che il segretario generale della Camera, non vorrei dire un'inesattezza, ma è stato liquidato con 2 milioni e mezzo di euro di liquidazione e 600 mila euro di pensione annua. I gran commi di Stato, come si diceva. Allora, dovessi prendere nel 2027 30 mila euro all'anno. Sa, il problema è un po' la moltiplicazione, però, il fatto che siete tanti, siete stati tanti, quindi, ma al di là di questo. Su questo, sgombro il campo. Lo valuterà. Vedrò nel 2027. Lo valuterà. Lo vedrò nel 2027. Io feci comunque una proposta e scrissi delle cose in un biglietto a qualcuno dove dissi che, secondo me, bisognava, ma questo già anni fa, un impegno formale e scritto a non percepire il vitalizio o a darlo in beneficenza a un organismo che vuoi tu. Uno ha i bambini del calcio, uno ha una onlus, non sua però, non sua. Ecco, sulle onlus, meglio che ho sbagliato, perché sulle onlus partono da un nobile principio, ma poi c'è onlus e onlus, come in tutte le cose. Io voglio sapere, l'ultima elezione, cosa ha votato? Quale partito ha votato? Cosa le devo rispondere? Lei come risponderebbe? Al suo posto? Direi la verità. Lei è una persona Non ci credo. Lei è una persona che non ha certe difficoltà a esprimere le sue opinioni senza guardare alla popolarità o al facile consenso. Lei pensa a alcune cose e le dice. Come io credo sia giusto fare. Però non l'ho detto neanche i miei figli che me l'hanno chiesto. Il voto è segreto, ci mancherebbe. Nessuno l'ho detto in televisione. Ci mancherebbe, il voto è segreto, mi interessava capire però se è rimasto nell'area o ecco. Ma non è perché adesso ripeto guardo le persone in qualche caso non è anche votato. Un esempio lo faccio alla Camera ho votato per la lista di Forza Italia perché? Perché al quarto posto c'era Gaddi, Sergio, che è un amico 25 anni fa mi ha dato una mano siamo restati amici lui ha fatto che sapendo che probabilmente aveva qualche chance di uscire ma no ma insultandolo perché i tre che c'erano davanti a lui erano invotabili. E anche alle regionali con tutto il bene che voglio con tutto il bene che voglio però anzi lo diciamo in televisione non sono stato soddisfatto delle candidature espresse da Forza Italia e non mi sono sentito di votarle perché l'iconosco perché poi qua il posto è più ma non ho niente contro però ormai non voto più un simbolo esatto non vota più per chi vota appartenenza a priori a priori e prima di votare ne guardo uno e dico guarda basta senta abbiamo parlato di politica parliamo di quelli che sono definiti un po' i corpi intermedi delle forze sociali le grandi associazioni di rappresentanza del mondo socio-economico sindacati associazioni imprenditoriali dall'altra parte hanno ancora un ruolo hanno ancora un senso rappresentano ancora in maniera efficace genuina i bisogni del loro mondo lei apre anche qui voi è vero non per non vorrei sembrare qui a tessere le vostre lodi ma siete proprio due bravi giornalisti e fate proprio bene il vostro lavoro la lingua batte dove il dente è buono è un mondo purtroppo che continua sempre più a perdere di rappresentatività ma questo non vale solo per le organizzazioni vale per la confindustria vale per la confcommercio vale per gli artigiani vale per la CISL vale per la CGL vale per la Will perché io ecco ho citato sia quelle datoriali che quelle sindacali perché ormai la rappresentanza cos'è non si sa più e mi dimisi da Confindustria Sondrio quando allora era Confindustria Sondrio e nella mia lettera di dimissioni spiegai proprio mi ricordo spiegai che il problema delle associazioni era la rappresentatività perché nel momento in cui la Confindustria adesso non è più ma in quel momento Confindustria Sondrio associava le aziende industriali e la grande distribuzione Liberal come si può fare gli interessi della grande distribuzione organizzata e dell'industriale sono interessi contrapposti perché perché io industriale devo andare a vendere all'Esselunga all'Ipera alla grande distribuzione ho citato l'Ipera perché siamo in Valtellina hanno messo una macchina da guerra sul territorio a livello di organizzazione commerciale ma dettano loro le regole il prezzo lo fanno loro i fornitori quindi un produttore valtellinese che va all'Esselunga che va all'Ipera non è che va giù a dirgli mammi gli dicono guarda te produrre ti costa così 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 che non paghiamo e gente che ha fatto investimenti importanti e che ha necessità di sbocchi di mercato a volte si trova nella condizione che o mangi la minestra o salti la finestra ecco il core business della sua attività è l'autotrasporto vale anche nel suo settore certo vale anche nel mio settore perché le dico io sono sempre stato associato di Confindustria Sondrio di Unione Industriale di Sondrio mio nonno fu socio fondatore quindi l'abbiamo vissuta tutta questa esperienza però se la Confindustria ha interesse a pagare tanto i trasportatori o poco non li paga meglio eh quindi la Confindustria a livello nazionale si appoggia alla Nita che è questa associazione nazionale che c'è da sempre eccetera eccetera alla quale io ai vent'anni che anche quando sono in Confindustria ho sempre detto che non sono rappresentato dalla Nita perché sono associazioni che si creano ma alla fine gli interessi veri dei trasportatori quello che ha parziale diciamo giustificazione dell'operato di questa associazione di categoria attenzione nel quale ho sempre fatto parte perché sono sempre stato parte attiva per la Confindustria ma ho fondato anche la FAI in provincia per 15 anni ho fatto la FAI provinciale oggi nello scenario di oggi c'è anche l'impossibilità di incidere perché anche queste organizzazioni di categoria cosa possono fare cosa possono fare a livello normativo a livello qua in un paese sfasciato dove dove attenzione non sono solo le associazioni di categoria ad avere opinioni diverse se lei prende un verbale a sondrio dalla polizia stradale dei carabinieri ormai tutte le leggi compreso il codice la strada ma le altre sono tutte interpretabili allora lei prende una multa a sondrio per A arriva a Lecco le dicono che è in regola passa da Bergamo e prende A più B e arriva a Mantua allora lo Stato lo Stato non va d'accordo con se stesso cioè quello che vale ma non è più come una volta che uno diceva no ma c'era il problema del meridione che c'erano due stati eccetera eccetera io ad esempio sulla mafia ho una mia visione assolutamente semplicistica no per io sono uomo del fare per me la cultura è il fare e non ho mai amato nemmeno studiare perché dicevo sempre quando mia mamma mi dice perché non studi più che studiare sono capaci tutti capire invece è più difficile a me piaceva cercare di capire al Sud la definizione che do della mafia qual è? che la mafia è un'organizzazione più forte dello Stato quindi è uno Stato nello Stato e se io fossi stato al Sud a vivere con quattro figli io se tornavo a casa i miei bambini dicono papà io ho fame se tu Stato non mi difendi non mi dai la possibilità di eccetera eccetera cosa devo fare? li lascio morire di fame? o faccio un copromesso della politica? questo discorso ci porterebbe lontano la mafia si è evoluta la mafia è arrivata al nord è entrata in Europa e soprattutto oggi mafia è gestione di traffici di droga armi prostituzione quindi ha assunto anche però connotati molto diversi rispetto a quello che dicevi sicuramente sicuramente però ci sono tanti interessi che si intrecciano ci sono tanti interessi che si intrecciano e attenzione attenzione ci sono anche altri tipi di mafia perché c'è una che qualcuno chiamava la mafia bianca c'è sempre stata anche qui e che se pestavi qualche piede qui dove scusi? qui a Sondrio a Milano anzi ho sempre detto ricordo una volta non cito a chi lo dissi che è una persona che oggi forse è nel Consiglio Superiore della Magistratura il dottor Napoleone che venne a Sondrio che mi guardò un po' così perché lui veniva da Milano e io proprio facendo un ragionamento di questi gli dico vede i territori marginali Sicilia e la Valtellina cos'hanno in comune? che sono territori con delle economie particolari con logiche particolari là per un discorso di storia qua per un discorso di come dicevamo prima invidia fragilità del territorio insomma qui le grandi aziende che sono in Valtellina ormai quante sono restate e più il posto è piccolo più la gente mormora più tutto sanno tutti di tutto devi stare attento a come muovi le pedine perché se tocchi qui non tocchi lì se tocchi là e mai muori il fenomeno in Sicilia ha altre manifestazioni se la fai uno sgarro il morire per un imprenditore vuol dire anche fallire quanti ne sono falliti perché hanno tit hanno toccato il tasto sbagliato yes quante persone anche in Valtellina per la politica questo è un nodo che ho qui che che veramente mi vede mi fa ribollire ancora il sangue nell'87 la Valtellina ha avuto l'opportunità di diventare grande purtroppo con dei morti l'alluvione e il distacco del coppetto io allora quindi nell'87 non ero né consigliere comunale né senza essere niente sostenevo che la legge Valtellina era fare due cose due cose ovviamente aiutare le famiglie lì tartano c'erano state le disgrazie ma per il popolo non doveva fare niente doveva tirare il metano rotto fino a Borgno e fare la strada fino a Borgno tutto il resto niente hanno fatto una legge che ci hanno messo tre anni a farla hanno previsto il finanziamento della chiesa della parrocchia dell'oratorio delle industrie del circolo numismatico bisognava contentare tutti bisognava contentare tutti alla fine non ho un dato ma ce l'avevo quando fui a Roma vennero dei soldi stanziati sono stati pian piano stralciati perché erano inspendibili hanno ingenerato delle aspettative dove sono falliti tanti imprenditori sono andate male perché con la storia arrivano i soldi arrivano i soldi ma da allora oggi la Valtellina è cresciuta? no io faccio questo esempio che da allora oggi però abbiamo appena aperto la tangenziale di Morbegno 87 97 2007 2017 sono passati 31 anni beh lei parla di corda in casa dell'impiccato perché sa benissimo che anche territori vicini da Lecco ad altri hanno scontato tempi e attese anche più lunghi incompatibili incompatibili con le esigenze di una società che corre poi c'è anche un aspetto se vogliamo culturale perché c'è stata anche la stagione dell'avversione politica ideologica nei confronti per esempio delle infrastrutture stradali piuttosto che di altre tipologie di infrastrutture ma c'è ancora oggi c'è ancora oggi appunto glielo chiedo c'è una dichiarazione un filmattino che ho visto di Di Maio che è stato interpellato prima del ponte di Genova sul corridoio 5 sì l'opera Torino a Tav sulla Tav e la gronda di Genova la risposta è stata sì adesso ma cosa ne pensano ma dobbiamo vedere perché la Tav è un progetto datato e col passare degli anni le esigenze sono cambiate bisogna vedere i flussi perché allora non c'erano le stampanti tridimensionali cioè il vice presidente del consiglio mi dice che la merce si muove con la stampante tridimensionale cioè io è una roba che in un paese serio quando la politica funzionava non sarebbe esistita i problemi comunque che noi stiamo affrontando dopo un secolo e mezzo quasi due di industrializzazione spinta perché non pensare anche a dei sistemi diversi per esempio il trasporto su rotaia altre modalità io faccio l'autotrasportatore e l'autotrasportatore non è nemico dei treni perché i treni non vanno nelle aziende e quindi la merce dagli stabilimenti alle stazioni e quant'altro la portano i trasportatori quindi è da sfatare questa cosa il problema è che dobbiamo andare a risalire quant'è il costo sociale della cosa perché oggi per fare un trasporto di media percorrenza ha un senso la ferrovia anche se ormai continua a perdere quote ma per determinati tipi di trasporto bisogna sapere che la ferrovia costa quattro volte tanto allora quindi aumenterebbe il costo del prodotto sul prossimatore esatto oppure l'infrastruttura deve fare il pubblico ma per favorire l'azienda che resti competitiva ma se io fare una cosa che spendo 100 e a mettere su un sistema di ferrovia spendo 10.000 dei fondi pubblici sono spesi 10.000 lì non li ho più per spendere per altre cose per le ferrovie che ci troviamo insomma è utopia alle persone è utopia pensare poi ci sono estremismi di tutti i tipi uno ecco può pensare che ci sono le stampanti tridimensionali il reddito di cittadinanza io il reddito di cittadinanza devo dire che ci credevo fino a 4-5 anni si chiamava Gesù Bambino vabbè io ho capito ha votato 5 stelle alle ultime elezioni sicuramente va bene un territorio come la provincia di Sondrio che leadership esprime oggi vede io che ho fatto parte di questo sistema a momenti non so da chi siamo rappresentati a Roma fatica a ricordare i nomi dei nostri parlamentari non so non mi ricordo chi c'è della Lega Roma? Parolo e del Barba Parolo non è dei nostri territori l'enlaghi beh questo è stato il collegio che l'hai eletto mi spiace però siccome mi dicono non è stato il collegio che l'hai eletto sfatare tabù eccetera io con la stima personale che posso avere di Ugo Parolo perché ci conosciamo ci siamo visti eccetera eccetera per la provincia di Sondrio ha mai fatto niente mai farà niente e non gli ha fatto proprio niente del Barba non lo conosco non mi posso esprimere in Regione in Regione abbiamo Sertori in una posizione che mai la Regione ha avuto avanti un punto di riferimento ce l'abbiamo è lì aspetto di vedere i fatti sperando che certo che se non facciamo qualcosa adesso c'è un interesse comune che voi sapete che io ho a cuore tra la provincia di Brescia e la provincia di Sondrio che è il traforo del Mortirolo che nel 1992 non fosse scompiata Tangentopoli sarebbe già stato fatto perché la strada che sale da Brescia è stata fatta per quello se ne parla da tempo qui mi ricollego al discorso dell'ambiente smettiamola di parlare del treno delle macchine che salgono sul treno delle merci che salgono sul treno se vogliamo raccontare le barzellette ai bambini le faule va bene l'economia non va così oggi le regole del gioco non consentono più sperpero di risorse ragazzi non ce ne è più quindi c'è un'unica leadership che secondo lei secondo il suo giudizio è espressa dal territorio cioè in altri ambiti non ve ne sono? non so in quali anni non risco per esempio quello economico piuttosto che associativo parliamo di leadership di carisma di capacità di visione beh qualcuno conosco però magari qualcuno che è nell'ombra la visione ce l'ha ma non la dice certo ecco si può parlare dell'evoluzione della società e dell'evoluzione che stanno avendo le due realtà più importanti della provincia le banche una ha scelto un processo una ne ha scelto un altro ci sono schierati i guelfi e i ghibellini lei è fiducioso o preoccupato? in primis io sono ovviamente preoccupato ma come sono anche per altri fenomeni per il territorio perché ho deciso di vivere qui voglio vivere in Valtellino magari anche ho avuto esperienze fuori lavorare fuori però io sono pro Valtellina e quindi come fa un uomo una persona con un certo raziocinio a non capire che questi sono cambiamenti epocali queste o corri o corri se non vuoi giocare non è un problema non giocare una strada è stata scelta in maniera molto coraggiosa dove qualcuno si è portato avanti è un'altra realtà ha fatto una strada diversa che pian piano dovrà evolvere anche quella che ragione se mi dava una sfera di cristallo il tempo dirà il tempo dirà poi di che altre realtà grosse posso parlare cosa c'è in Valtellina non c'è più niente c'è poco diciamo ma ci sono i vini e di c'è poco prima dei vini ci sono le acque una parentesi sulle acque aveva fatto e anche qui sono molto felice di farla perché così qualcuno farà polemica di sicuro e strumentarizzerà la cosa ma sono grande ormai ho le spalle abbastanza larghe sicuramente l'acqua è una risorsa dico questo perché sono stato consigliere dell'ex AM per nove anni premetto che sono stato l'unico consigliere di Milano a votare contro la fusione con la SM di Brescia motivando dicendo i verbali sono ancora lì e saranno lì per cent'anni potete la strada intraprese prima di un riconoscimento maggiore al territorio prima di accusarmi di incoerenza lo leggano questa è storia diciamo leggano però guardiamo all'oggi la storia però carta canta vi la andorma all'oggi c'è che con la costituzione anche della 2A oggi anche l'AIVV Sondrio è entrato nel mondo a 2A siamo entrati eccetera però questo territorio è una io dico sempre che senza il Mortirolo senza il Mortirolo Tirano e Ravoledo faranno la stessa fine Ravoledo è questa frazioncina sopra Sondrio che come tutte le frazioni stanno pian piano asciugandosi vengono in giù come chiudono il negozio ma il negozio non sta in piedi Tirano se togliamo l'Alta Valle per quanto riguarda il turismo sta a Ravoledo perché l'economia va sempre più verso Milano diventa tutto Milano centrico e il territorio per invertire la tendenza serve una cosa sola servono le idee ma queste se ne possono avere serve condivisione e questo è un problema e questo in Valtellina come in tutti i posti piccoli è un problema e servono i soldi o ci sono tre fattori idee di condivisione soldi di tre non ne abbiamo già due uno come fa a essere ottimista certo però c'è il turismo c'è lo sci ci sono i prodotti gastronomici ci sono anche alcune eccellenze una assolutamente ma un sano sistema industriale secondo me è basato sul che ci sia un po' di tutto quando andate a lavorare a 500 600 700 persone tieni su un paese due paesi tre paesi se non c'è industria non possono andare se vanno tutti a lavorare sugli ski lift d'estate poi gli ski lift sono più beh certo direi la monocoltura dello ski degli ski lift è stata abbondantemente superata forse tardivamente ma ora si guarda una prospettiva nuova lo sviluppo probabilmente deve passare da uno sviluppo equilibrato certamente il vino è una risorsa però anche questo mondo del vino per poter andare avanti in una logica di lungo periodo oggi avrebbe tanto bisogno del pubblico avrebbe tanto bisogno di investimenti che le aziende non possono sostenere perché 3.000 erotti chilometri di muri a secco che ci sono ragazzi non c'è niente da fare non c'è niente da fare però non ci sono le risorse e la condivisione quindi ognuno ripeto vanno avanti tutti come degli eroi ma lei ha acquistato delle vigne ha acquistato delle vigne ho aperto una casa vinicola quindi vuol dire che vado nella categoria degli eroi per la mia attività imprenditoriale dei pazzi per il vino però per gli incoscienti per tornare all'inizio delle caratteristiche degli imprenditori pazzo pazzo l'ho detto prima un pazzo però ho quattro figli io un concetto che vuole che crescano e che vivano qui ok vadano nel mondo assolutamente io penso che i miei valori che la mia famiglia ha cercato così di trasmettermi o quelli che ho recepito io non si sa poi però al di là di tutto al primo posto ovviamente nessuno dice più una cosa che tutti danno per scontato ma c'è la salute ma tutti se gli chiedi i suoi valori la salute la dice nessuno tanto la si apprezza solo quando la si perde detto questo c'è solo la mia famiglia che è inviolabile è intoccabile e se parlano male di me è un conto se fanno qualcosa contro la mia famiglia divento abbastanza nervoso primo il lavoro dopo insieme a queste cose c'è un valore che non apprezzo la libertà la libertà io voglio che i miei figli abbiano la possibilità di essere arbitri del loro destino voglio che decidano loro se vivere in Valtellina se andare via cosa fare studiare io come genitore ho solo il compito di fare una panoramica illustrare pro e contro dire poi cosa ne pensi mi devo fare io devi fare tu il vino è una scommessa perché se uno vuole vivere a Tirano ed è giovane e cosa fa a Tirano vino treno rosso la cartiera e anche qui va un plauso all'ultimo imprenditore che l'ha avuta il cavaliere Mosna che dopo tanti fallimenti l'ha chiusa nel 2008 senza lasciare un euro di debito e ancora la gente è arrabbiata perché ha chiuso la cartiera non ha lasciato un euro di debito e riparto da lì l'acqua la cartiera era stata aperta quando c'era ancora in politica anche mio padre perché il consorzio Ciaffa aveva creato il BIM il BIM che ha perso la sua funzione il bacino in brifero montano che agli stabilimenti come la cartiera praticava un prezzo agevolato dell'energia per portare gli imprenditori a localizzare qui le proprie attività oggi paesi lontani creano le condizioni perché gli imprenditori italiani vadano là però un imprenditore ripeto non può far politica e il suo fine è la crescita dell'impresa se non cresco qua e non ho linee di crescita qua vado di là io ho deciso di non andare di là quante aziende di autotrasporti sono andate in Romania in Ungheria quante volte me l'hanno detto ragazzi finché ci arrivo resisto sono italiano voglio vivere in Italia e non me ne sono andato neanche dal mio territorio perché per il mio lavoro per il trasportatore la Valtellino ormai ci sono tre clienti che fanno loro i prezzi a Milano abbiamo aperto una filiale ma la sede dell'azienda da Tirano non la porterà via nessuno piuttosto chiudiamo l'azienda Fabio quanto scommettiamo se si candida Uberti alle amministrative di Tirano sì sì direi che ci sono ci sono delle ci sono delle premesse delle premesse cosa vi devo dire nella vita mai dire mai già questa è una risposta è una risposta eloquente è una risposta eloquente che però fa il paio con quello che devo dire dopo a volte mai a volte mai perché in questo momento ho altri interessi ho altri impegni e poi la cosa più triste la cosa veramente più triste che nonostante dovessi pensare a un'avventura del genere eccetera eccetera penso che fallirei penso di non avere le energie necessarie la condivisione che non ci sia più nella gente lo spirito di stare insieme che siamo la disgregazione totale e allora nel 1965 lavoravi da lunedì al sabato per prendere dello stupido a messa la domenica ma i risultati li hanno portati strade infrastrutture il BIN questo questo oggi rischi di lavorare dal lunedì al lunedì come un asino prendere dello scemo sette giorni alla settimana e alla fine del mandato dici cosa ho fatto niente certo ci vuole un po' di eroismo sicuramente anche per fare l'amministratore locale ricordandosi poi che vale per tutto ma per il pubblico ancora di più perché hai a che fare con tutti che in questo paese la riconoscenza il sentimento del giorno prima calma un attimo meglio bere vino meglio bere vino beh è stata una chiacchierata molto intensa con molte bollicine diciamo sì esatto briosa frizzante un'ultima cosa che però sulla quale vorrei fare un inciso al quale tengo molto e non che non tenga al mondo del vino tant'è che ci ho investito ci sto investendo è un'attività che veramente è fantastica ma è chiaramente rivolta a una parte la Valtellini in questo momento ha un'occasione storica che è il traforo del Mortirolo avevamo introdotto prima l'argomento in Valcamonica c'è Davide Caparini che è assessore al bilancio che ha fatto 4-5 mandati parlamentari leghista leghista Sertori è assessore in regione ci sono tutte le premesse perché questo piccolo tunnel che porterebbe uno sbocco secondo me incredibile che creerebbe un bypass di sicurezza anche per quelli di Vercea anche per quelli di Piantedo perché la strada del lago continuo a ripeterlo è su un versante instabile e chi viaggia di notte quante volte di notte si trova chiusa è costosissima di manutenzione la gente non lo sa poi quel giorno che si chiude però dopo cos'è fa? quindi se si chiude la strada del lago Mortirolo è la sua la sua battaglia è l'unica è l'unica possibile e è una roba un roseghino che ho dentro adesso vediamo cosa servono tutte le rotonde dove è stata fatta la strada che non servono più a niente ma tanti soldi erano di pantalone erano di tutti erano dei pagliattivi e le rotonde che ancora esistenti lo dico adesso che la strada è appena aperta vediamo nei prossimi uno due tre mesi cosa succederà alla rotonda di Castione sud e di Castione nord perché la coda che ci sarà in quelle due rotonde lì sarà più chilometrica del chilometrico spero di essere un cattivo profeta però attenzione la coda è una cosa la sicurezza è un'altra e quelle rotonde in particolare quella sud sono rotonde strette pericolose dove non c'è la visibilità come quella di Chiuro se tu sei un amministratore hai delle responsabilità forse dicono che prevenire è meglio che curare raccogliamo questo suo punto di vista diciamo da tecnico su queste criticità viabilistiche grazie Paolo Berti prego grazie grazie a voi al di là di tutto al di là dello scenario deprimente delle delusioni delle amarezze e viva l'Italia tornando al vino guardiamo il bicchiere mezzo pieno viva l'Italia grazie grazie per il bicchiere grazie buon lavoro grazie a tutti